ciao ragazzi oggi siamo qui su picchi per un nuovo gioco allora ne fa tempo che mi prendo una palestra che la sono rubata allora credo che qua sotto è stata una brutta e deve andarci perché se biggy spawna qua io mi tolgo nera proprio nera 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 no no perché perché ora ancora non si vede più nulla e se muoio leggero mi prendo due colpi dove siete dove sta a miglior? ah tizio non puoi spararsi tizia tizia non puoi no aiuto no per favore morite dai è difficile questa partita perché io in questa mappa non ci so giocare in questa mappa e nelle altre si ci so giocare non lo fai perché questa è minuscola ed è stretta poi poi niente è infettato che tizia non ci vuole neanche aiutare banni sotto tizia sotto tizia devi andare sotto sotto sblocca la porta sere dal lì il martello a giù doni no 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 a me no per favore per favore per favore ah no 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 è giù è morto Pavoro Gio, che non so neanche chi era. Ma se sta portando, non si può più. Oh, no. Eh, no. Sono incassata, capullo. Capullo. Una monetina. Ho una monetina. Ho una chiave gialla. Che non so dove va usata. Serve la chiave verde. C'è la palestra, capullo. Uggita. Uggita. Ce l'ho. Allora, sopra ho visto la palestra. Mi pare che l'avevo vista. Sì, l'avevo vista, ragazzi. Mi pare. Sto zitta. Eccola. Mi pare. Mi pare che l'avevo. Mi pare. Mi pare. Dove sei? Ti sparo Ballo sulla tecno Game over Game over Perfetto Invece se sceglievamo il Piggy E' troppo facile No, Piggy Con Piggy Perfetto E te l'hai già morta la partita No, per favore La partita no, facciamo il carnevale No, no, no No, no, no No, dai Questa La casa La cosa che faccio La cosa che faccio Traditore, per favore Traditore Traditore No Voglio traditore No, traitore Oh No Dai No, il bot No, sennò sa sempre dove sei Dai No E votiamo il traditore Ma Ma Qual'è il bot Non il bot Non il bot Non il bot Sennò perdiamo Sono uscita Non il bot Non il bot Non il bot Non il bot Che cavolo Dai Dai Aiuto Se Vinci subito Vinca in questa Chiudo il video Se invece non vinca in questa Non giocherò più a pizza Mi ha risparmiato 10 articoli usati Questa qua devo dire che è facile Epiche Non lo so perché io non mi ha risparmiato Vai Ma siamo vincendo Già Già Stiamo vincendo Ma dai ma siamo troppo forti Ragazzi Ma dai ma che paura Va Buttatevi sotto Tu voli là tizio E codice chiave Il codice chiave tizio caro Serve Alla porta Alla porta d'ingresso Aspetta Qui 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 Il codice Da Poi Dopo Vi voglio anche cambiare un po' la schiena negli ultimi minuti ma voi vai Eccolo Numero Il gioco Mi voglio che mi cambiare la schiena eh sì E che porterai? Oh no, quel! Che carino! Se metterselo gratissimo, non lo renderai. Anche l'aglio, voglio. Se ci sono dei capelli che si possono unire insieme, forse... Andiamo un attimo... No, la corona no, caro ragazzi. Io dietro vorrei fare accessori di spalla. No, accessori di spalla. Accessori posteriori. Ma che è? Ma che è? Ah, robottini. Ecco, con i palloncini, sì. No, con i palloncini. Accessori di vita. Flamingo! Carino! E questo pezzo. Sto rimanendo troppo male per tutte le cose che mi stanno... E io non me la posso prendere. Sto rimanendo male. Guardate quanto soffino. Mi prendo questa qui da coroncini. E i pantaloni mi ricambio. Perché cosa... No, i palloncini robux li hanno tolti. Mi hanno tolti. Mi vendicherò un giorno. Mi metto questo tipo poveri. Però che pizza. Sono delusa. Molto delusa. Do roblox. Ciao ragazzi!